Amici di Daily Basket, siamo qui quest'oggi nella pre-gara di Vanoli Basket che mora con Cibrio Varese con Lance Herries. Lance, grazie per essere qui. No problemi, no problemi. E parliamo di vostra ingruttura, prima di tutto, è molto bello vedere te camminare senza i crudoni. Come va la tua scuola di recuperazione? Va bene, ho iniziato a camminare molto più velocemente che ho avuto prima. Ho scoperto i crudoni prima, ho scoperto i miei punti, ho scoperto i miei punti, quindi credo che la recuperazione è venuta molto più velocemente di quello che era dovuto essere. Lance, ovviamente ti auguro di venire e di aiutare il team nel prossimo anno. Do you think that you will be ready for the very beginning of the next season? Yes, the doctor, when I spoke to him, he told me that I should be three months max, so that puts me at June. So I'll be preparing the summer real hard to strengthen my groin again and my legs, so I'll definitely be back before August. Allora, dice che naturalmente si sta già allenando, ha parlato con i dottori e dice che probabilmente in agosto sarà già in grado di allenarsi. Last question about the NBA, have you already filled your bracket and what do you think for the coming playoffs? I'm thinking Miami Heat all the way, I'm a LeBron James fan. He's the same age as me, but I am a fan of somebody that's the same age as me. I played against him in Nike camp growing up. I'm going with Miami Heat winning it all. So you're looking repeat? Repeat, definitely repeat. Thank you Lance. And we're looking forward to see you back in the game. All right, ciao, thanks.